Hai visto la palla o sei andato con il stile? Io avevo visto in settimana lui che aveva già calciato contro il Sorrento una punizione così ho immaginato che potesse calciare la stessa punizione ho anticipato un po' perché comunque con il tocco e tiro ho immaginato che calciasse di là sono partito un po' prima e poi è stata deviata anche la palla da Tripoli quindi è stato un doppio colpo di arena